La storia del DJ è legata fin dal principio a doppio filo con quella della radio. E allora è giusto chiedersi, ha ancora senso oggi parlare di radio? Decisamente sì, la radio non è qualcosa che appartiene al passato. Questa è una dichiarazione di Annie Mac, possiamo leggere l'articolo qui sotto, che è una delle voci più note della BBC in Inghilterra. E lei sostiene che la radio ha ancora senso oggi quando prevale il lato umano, nel parlare di musica o di altri argomenti in base alle persone che la fanno. E questo è un modo per differenziarsi da un algoritmo al tempo di Spotify. Già all'inizio degli anni 50 davano per spacciata la radio, perché sarebbe arrivata la televisione e quindi non ci sarebbe stata più quella diffusione di massa della radio e quindi magari sarebbe sparita. In realtà non è andata per niente così e la storia ce lo insegna. Ogni volta che si aggiunge un nuovo media, gli altri si ricollocano e trovano il loro spazio di mercato. Non spariscono mai del tutto. Ancora oggi, nel tempo di internet, la radio ha la sua importanza, il suo piccolo spazio. È evidente che per i grandi network è difficile, soprattutto nella raccolta pubblicitaria, si sta dirigendo in altre direzioni, quindi non starei tanto tranquillo se mi occupassi di quella posizione. Però la radio ha il suo valore aggiunto rispetto ad un algoritmo e è nelle persone, nei personaggi che parlano e nella musica, nella selezione operata dalle persone. È questa direzione che può e deve distinguersi la radio oggi. Se i grandi network fanno fatica, magari in Italia hanno del tutto rinunciato alla musica, c'è di contro una miriade di realtà piccole e sul web o comunque locali che fanno un ottimo lavoro tutti i giorni. Dal nostro punto di vista quindi possiamo navigare in questo universo alla ricerca di programmi e di situazioni interessanti. Penso ad esempio a Casa Bertallò, la web radio di Alessio Bertallò che dopo aver giropagato per JRI si è costituito il suo spazio con programmi veramente di qualità e ospiti molto interessanti. E sta avendo anche un riscontro, quindi in quel caso la qualità paga, per fortuna. Noi dal nostro punto di vista possiamo o cercare di far parte di questa realtà con la nostra voce, con la nostra intenzione, con la nostra selezione oppure navigare e quindi cercare cose interessanti ovunque senza fermarsi a quelle due o tre cose a cui siamo abituati ma entrare in questo oceano e cercare di scoprire le cose più interessanti possibili e portarle con noi in ogni set.